Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete dato mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Oltre tutto oggi a 19 e come sempre saremo in live, link in descrizione Siamo nel mondo normale, prima di andare nell'Erebus e affrontare la mega piramide che ci permetterà di avere questa staffa E con questo qui per modificare di aver quasi praticamente completato la dimensione Voglio fare vedere una cosettina Vi ricordate che l'ultima volta eravamo rimasti intanto qua, ho messo una cessa con tutte le robe dell'Erebus Con praticamente questo materiale particolare Ci si poteva fare questa whetstone e con questa qua potremmo fare lo sharpness livello 1, livello 2, livello 3 e così via Andando a mettere la whetstone di livello precedente con questa polvere La polvere ragazzi non sapevo però come farla E a noi diciamo questa cosa qui serve a molto perché tecnicamente avere uno sharpness 5 craftabile ogni volta che vogliamo Beh è tanta tanta roba, soprattutto perché come vi ho già detto volevo cominciare ad utilizzare questa spada qui Che è molto più veloce della mia, fa meno danno Però effettivamente con questo sharpness 5 farebbe più danno Ho scoperto che questa polverina qui si ottiene da questi animaletti qua Ci ho messo 3 miliardi di anni per trovarne uno Ovviamente tutte cose fatte in live E come vedete quando vengono killati ci danno la robettina che noi vogliamo Hanno un botto di vita, ora lo stopo perché bisogna andare in un'altra dimensione e non vorrei lag vari Quindi stoppiamo tutto e fermo anche questo qua Quanti ne abbiamo presi? Beh ne abbiamo un bel po' di stack Ne abbiamo veramente un bel po' di stack Sono molto soddisfatto considerate che per uno sharpness 5 servono circa 41 pezzi Se non ricordo male E quindi beh ne possiamo fare direi un bel po' Poi non so se due sharpness 5 possono diventare uno sharpness 6 Anzi a dire il vero non penso ma nel dubbio boh Riguardo a queste cosette qui invece ho provato a piantarli nell'erbetta normale Però ovviamente l'erebus è una dimensione che sta sotto terra Stanno sotto terra e al buio E di conseguenza queste cosette qui o li piantavo qua in questo pozzol O al buio e beh tra le due cose Senzillamente ho preferito metterli qua Non sono bruttissimi ma nemmeno così belli Speravo meglio Anche perché volevo piantarli qui normalmente a giro però vabbè Comunque non perdiamo tempo e andiamo nell'erebus Eccoci qua Come ho trovato la piramide Cominciamo da questo Grazie a voi Nel senso se vi ricordate Ah già è vero qua non posso volare Quindi facciamo questo cambio Se vi ricordate la prima volta che sono venuto qua Ho subito incontrato questi boss qui che venivano in alto Jumber Golem Idol E nulla ragazzi è la piramide Cioè seriamente questa qui è la piramide Quindi prendiamo le Chorus per andare sotto terra E vediamo se si riesce a trovare Ok no c'era proprio sopra Ragazzi eccola qua la piramidina Siamo proprio sotto ai nostri piedi Allora come vedete i boss che sono sopra sono quattro E ora non si vede proprio nulla Ogni boss ha un suo colore E guardate un pochettino Sopra la piramide ci sono quattro elgini Ognuno con il colore effettivamente di un boss Tra nero e rosso che Qua è tipo marroncino strano ma siamo lì più o meno Una volta sconfitti questi quattro boss ci daranno un drop da mettere qua sopra Che ci farà accedere direttamente al boss finale Ho dovuto ragazzotti come vedete le missioni sono anche aumentate Nell'Erebus appunto ho fatto un'altra missioncina Ovvero ho sconfitto la Tarantolona In verità ragazzi non è nulla di che È stata una battaglia bruttissima Se volete ve la porto anche Però è stata tutta giocata diciamo di cervello Perché mi lanciava addosso i ragnettini Io semplicemente li schivavo e poi gli lanciavo addosso il mio pietrone gigante del talismano A proposito del talismano prepariamoci alla battaglia ovviamente Allora Regenerazione Scudo Iron Golem E ovviamente direi di prendere come sempre il nostro talismano Mi piacerebbe darvi una visuale più bellina Quindi magari ok possiamo anche fare così Spostiamo magari le cose un pochettino più inutili I slot liberi sono sempre ben accetti E ci siamo ragazzotti ci siamo Allora considerate che io non so nemmeno dove siano questi boss a dire il vero E nemmeno quanto siano potenti Però suppongo che possono essere nelle varie stanze Oh mio dio Pensavo di fare un'altra cittata Nel senso qua ho il pet mucca che mi leva gli effetti negativi Posso direttamente usare il chorus e così mi levo gli effetti negativi E ragazzotti abbiamo sempre un disastro qua ci sono tutti i topini sotto di me Devo assolutamente prendere un arco ed eliminarli Ok perfetto così almeno non ci danno noia ora Ah ma perché c'è l'evocatore laggiù? Che cavolo dai Ok chillato Di questi qua qualcuno è infetto? Non mi sembra è un po' rischiato ma non mi sembra Allora qua giù vedo una pietruzza strana Potrebbe essere una pietra dello spawn? Non lo so ma nel dubbio come ho già detto Potremmo bypassare tutto in verità Intanto dentro la piramide c'è il mega boss che non può spawnare ancora Qui abbiamo tantissime cose Ora un attimo che faccio passare gli effetti Poi me ne mangio subito un altro Perché questo qui è il labirinto e ci dovrebbe portare Tecnicamente dai vari boss Oh eccolo là l'ho visto l'ho visto un boss Allora intanto voglio vedere nel chest se posso trovare cose buone oppure no Exploding no sono cose scam Che danno 5 cuori 5 cuori ok Eccolo qua Allora secondo me è abbastanza pericoloso lui Quindi stiamo un attimo lontani Testiamo Oh prima mi metto così Testiamo il danno Ok ce la facciamo ce la facciamo ragazzi Non è nulla di che Oh mio dio Immortale immortale Non è nulla di che cheat Ragazzi stavo morendo Meno male che ho l'immortalità da un minuto ora E quindi ce la faccio senza problemi a killarlo Ma raga Stiamo scherzando Stiamo veramente scherzando Mi ha tolto un botto Ma veramente un botto un botto di vita Quindi posso killarne uno ogni Due minuti in poche parole Perché devo aspettare che mi si rigeneri tutto Dio mio che difficoltà E qua mi ha dato Ok lo scarabeo in giada Che sarà quello che devo posizionare Appunto sopra Scommetto che sarei riuscito a ucciderlo senza problemi Se avessi usato Il mio talismano Perché il mio talismano Ricordo che fa 600-700 di danno Il punto è Cos'è che mi levo Sono tutte cose potenzialmente utili Potrei levarmi il piccone Già che attualmente non lo posso usare per scavare La portal gun posso Posso Sì potrei utilizzarla Ma non mi servono nell'inventario Diciamo sarebbe utile per scappare velocemente Vabbè dai me la provo così Con un po' di slot in meno In questo modo Ok meno male che li posso usare ragazzi Se non potevo utilizzare Questa mossa qui in questo posto Era veramente la fine Ah e se vedete Ho un cuore verde Questa cosa perché? Perché l'ultima volta ho testato Dei cibi extra E mi ha aggiunto cuori Senza girarci intorno È molto easy così Ottima cosa ovviamente Quindi prossimo boss Abbiamo affrontato il verde Ok Segna quello bianco Eccolo qui Perfetto E allora prepariamoci stavolta A killarlo come dico io Quindi con le mosse ultra OP Allora facciamo così Ah io chi c'è? Oh oh Toccoso da dietro Mannaggia lui No cavolo Dove sono? Eccolo qui Oh mio dio No 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 Non lo vedo arrivare così C'è? Raga ho paura Dov'è? Eccolo qua Ecco dai ce la faccio Ce la faccio ce la faccio Oh Perfetto Perfetto Scarabeo bianco Cerchiamo subito il prossimo Ok segna il rosso Ah io Mannaggia anche questa Mi sono spaventato raga Qui potrebbe essere ovunque No 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 Qua sono tornato al punto iniziale Ho sbagliato la strada mi sa Oh Ce n'è uno qua Ok Questo è il rosso Che in verità non è il rosso Ma lo segna il rosso È marroncino Perché l'hanno voluto segnare il rosso Dai Veloce veloce Vado di qua Vieni 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 Oh Killato subito Sì ma c'è il cosettino in alto E mo cosa faccio? Vado qui Prendo la roba Ho preso tutto vero? Me ne vado me ne vado Ok ce l'ho in mano Rimane l'ultimo Che non so di che colore sia Giallo Ok Ha senso Eccolo qui Perfetto Ce l'abbiamo Questo qui no Se vado qui sono in trappola Quindi devo seguire la strada laggiù Va bene Ce la possiamo fare Perfetto Due colpi Un 800 bello pieno Un altro 800 Ragazzi è troppo forte questo però Oh Ragazzi sembra facile Veramente sembra facile Perché mi vedete Con tutti Questi colpi qui Tirati in mezzo secondo E pensate che sono tipo OP e tutto Ma raga 800 di danno a botta Gli stavo facendo Questi qui hanno migliaia e migliaia di vita Ok qui c'è un altro regino con la peste Mannaggia Ho quasi paura di questi qui La peste mi blocca a livello di tempo Invece quelli lì potenzialmente mi possono killare Però se sto attento non mi killano Mentre la peste Anche se sono attento me la prendo E poi è un casino Vabbè non ne vedo altri appestati Quindi potremmo esserci Cominciamo a metterli Verde Bianco Marrone rosso Giallo Uh si è aperto Oddio Non me la sento Oh sta crollando Chest Giada No Ma mi ha appestato al volo Non ci credo Non ci credo E non posso affrontare il boss ora C'è vabbè ma vi pare che Che deve arrivare in questo momento C'è quello lì ha appestato E un altro qua Mannaggia veramente Sti topini Che poi non dovrebbero nemmeno esserci In questa dimensione qui Mentre aspetto faccio una cosa Ultra mega trash Piazzo i blocchi così In questo modo i topini Di certo non ci possono salire Ed entrare dentro So che è esteticamente orribile Raga ma veramente Non me la posso rischiare di nuovo Che ci sia un topino Che mi salta addosso In questo modo qui tristissimo Qua vedo però Che abbiamo Un health boost Da 40 cuori E se non sbaglio Questi cuori Nella jar Appunto dovrebbero darmi Instant i cuori E poi comunque Vari instant health Quindi Tutto sommato Mmm Se non me ce la possiamo giocare Sapete Ok Io Io ci proverei Allora intanto Questa cosa qui cos'è Non lo so Oh mi ha tippato Vado qui E mi tippa di qua E qua cosa devo fare Ma fermi tutti Non ha la forma della giada Che era qua dentro Mmm Si 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 ragazzotti Funziona Ci devo mettere la giada Si sta attivando qualcosa Stiamo ultra attenti Potrebbe Finire sempre Malissimo E Penso di aver andare qua sopra Perché con lui ci ha insegnato Che era un tp Quindi questo qua ci tipperà dentro Oh mio dio E Altra giada da piazzare Ovunque E se vado qui Torno su Ok Quindi questo qui per andare avanti Ma qua non vuole la giada Qua vuole qualcos'altro Sto pensando Sembra uno scarabeo Effettivamente E poi lì vuole altre cose ancora Mmm Vediamo l'erebus Cosa ci propone Con questa forma quindi Ok La gemma Somiglia a quella che devo mettere Ah io Orca miseria Somiglia a quella che devo mettere A qualche parte Tipo Laggiù Forse E che cavolo Però facciamo così Posiziono un attimo Un blocchettino qua Apro Un portale Me ne torno a casa E vediamo Se ce l'ho nella cesta Qualcosa di simile Come ho già detto Tutta la roba dell'erebus E dentro questa cesta qui Marrone E io qua dentro Ho Sì Esoskeletro plate E penso sia questo Punto che comunque Si rimane poi Alle cose dopo Che non so cosa siano Quelle che vuole Vabbè Intanto possiamo provare In teoria Una volta che sono qua Dovrei comunque essere collegato lì Mi basta fare così Ok perfetto Sì 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 Diciamo che è per forza questo Ok Ci vanno perfettamente E se doveva aprire A questo punto un muretto Ah no Devo andare qua dentro ovviamente Devo andare qua dentro E vuole delle palline Cioè io non lo so Cosa vuoi È laggiù delle medusine Beh potrebbe essere Questo ciò che vuole Questa specie di Di carica Non so cosa Mi sembra un po' strano però Ma sapete che vi dico Ogni volta che io metto Una cosa qui Oh cavolo Si apre il portalino E poi mi tippa lì Aio E poi mi tippa dirà Io dico una cosa Il portale centrale È già attivo Quindi Se io In modo molto molto lezzo Facessi così Ecco appena attraversato Tutte le pareti Ora io non voglio dire Che me la voglio brutalcippare Però è ciò che sto facendo Potenzialmente Quindi vado qui E sono nella stanza del boss Ah è vero la mucca La mucca Sì che sostanzialmente Era quella che si era vista All'inizio dentro la piramide Però ovviamente Non c'è nessun boss Perché vogliono Che le cose si facciano A modo Diciamo Va bene Va bene Va bene Ragazzi so che può sembrare Una cosa stupida Ma sono un attimo andato A leggere un secondo Cosa cavolo ci volesse Per tutto questo E se non ho capito male È una cosa Cringe Un pochettino Cioè Mi sembra di aver capito Esatto Magma cream Ragazzi ho detto Ma no dai Non possono essere veramente Le magma cream E invece sì Laggiù sono veramente stringhe E qua Quanto parla È una cosa un pochettino Più complicata Ovvero questi qui E penso Da quel che vedo Qua sulla destra Che saranno Questi mob qui A darli Si trovano nel land city No aspettate No si trovano nel land city Le uova Non Non i mob Ecco Ma Se non ho capito male Si possono ottenere Anche Da come si chiamano Gli aggini che cambiavano Sulle pareti Nel labirinto Che ovviamente Noi non li abbiamo killati Perché li abbiamo bypassati Tutti proprio Abbiamo attraversato Realmente le pareti In una normale situazione Tecnicamente Le avrei dovuti killare Quindi Portal gun Sparo Un portale E nulla Si torna nel labirinto Ragazzotti Alla ricerca Di quei cosettini lì Che non so Minimamente dove trovare Eccoli qua Sono tecnicamente Questi cosettini qui Quindi Ah Sono tipo Attivati da delle specie Di trappole Intanto Dov'è il mio Eccolo qua Iron golem Proviamo subito a killarlo Anzi mettiamoci subito Il coso ex Questi qui Cavolo Ragazzi fanno malissimo Fanno malissimo Però Spero di essere più forte io Ed eccone uno Perfetto Ne servono otto Dovremmo quasi esserci A dire il vero Ne mancano veramente pochissimi Con questi qui Dove ho messo Oh otto perfetti Ok bene 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 Andiamo andiamo Dai non è stato nemmeno così difficile Devo dire Però aio Tu vai via Ah questo fa male Ok Ti amoli quindi Questi qua qua dentro Così Ci siamo Prossimo step Semplicissime stringe Ok Direi che ne ho anche abbastanza Di queste Ho le Messe tutte E ah Ah no 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 Bisogna stare un attimo attenti Qui Mi sposto questo Leviamo Ritorno Dov'è finito? Ma Aio Dov'è? Pozioni? Ma è lui il boss Ah oh Oh mio dio ragazzi Aiuto Aiuto Allora fermi tutti Pozione intanto Non ha funzionato Benissimo Tu vai via Non ti voglio nemmeno vedere Non so se sei tu il boss Ok non lo sei Giustamente il boss è qua dentro Ed è appena spawnato Prepariamoci per la battaglia Allora Fire resistance Non so se può servire Ma beviamola Night vision Già ce l'abbiamo con il gattino Instant health Non ci servono perché non siamo in teoria Attopati Potremmo definirla così Questa cosa Ok L'iron golem E ci siamo Basta possiamo andare Speriamo in bene Ok Eccolo da giù Io provo a non avvicinarmi nemmeno a lui Sinceramente Ragazzi ma non gli stanno Oh 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 Cavolo Ma non gli arriva nei miei colpi? No No raga No gli arrivano i miei colpi Della mia arma più forte Questa è la mia arma più forte Ragà No gli stanno arrivando i colpi Oh mio dio Ok So come fare Forse Mi scudo Mi butto in mezzo Con questo qua No raga Non gli faccio nulla E invece qualcosa glielo faccio Invece qualcosa glielo faccio Dai ok Sto tenendo un timer accanto Ragazzi Un timer accanto Dura un minuto La mia invulnerabilità Facciamo che io la faccio durare 50 secondi E ci siamo poi Comunque gli sto levando un botto Facendo così Poi mi tocca stare fermo Per circa due minuti Ma tecnicamente Non è male come cosa Cioè nel senso Io posso ucciderlo Con la prossima invulnerabilità Sì perché sono Praticamente metà vita E in verità ho ancora Un po' di tempo Se avessi usato ragazzi L'altra spada Forse forse Ce l'avrei fatta a killarlo Intanto avrei avuto I miei amici Ad aiutarmi Quindi Non sarei stato da solo A combattere Ma oltretutto Come dire Sì avrei potuto Spammare molto di più colpi Vedo come tanto Faccio più danno Altre volte un po' meno danno Siamo quasi verso la fine Ragazzi Non posso più attaccarlo Tra pochissimo Veramente ho poco tempo Basta 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 Non esageriamo Non esageriamo Non so se ci sono stato 40 secondi 50 robe simili Ma è meglio ragazzi Starsi un po' di meno Che un po' di più Perché magari Questa cosa qui mi sciotta Non ne ho la minima idea Ho mangiato Mi si sta rigenerando la vita Devo aspettare due minuti Non ho più nugget per il juggernaut Quindi mi devo Mentre mi sposto Velocemente Prendere il telecomando E devo cercare poi Obsidian Ok Ha mangiato il juggernaut Perfetto Posso rimuovere di nuovo questo E appena sarà disponibile Lo possiamo rifare già Ok 17 secondi già Buonissimo Ah già è vero Perché ci mette due minuti Per ricadicarsi Però due minuti Da quando effettivamente Faccio la mossa Quindi la mossa dura un minuto E un minuto dopo Posso già riutilizzarla Ci siamo ragazzi Due secondi Un secondo Attivato di nuovo Di nuovo attacchiamolo Lo so È un po' da lezzi Fare così ragazzi Ma fidatevi In questa dimensione Ci sono dei mob Troppo Troppo forti E io per killare questo qua Devo assolutamente Essere invincibile Perché se no Potenzialmente Io ho 40 cuori Ho un'armatura della madonna Fidatevi Mi uccide Mi uccide Non me la sento Già i boss di prima Avete visto quanto rischiavano Di killarmi E sono 4 mini boss Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta ragazzotti Sta Collassando Ci ho messo 20 anni Ci ho messo 20 anni Veramente Allora abbiamo ottenuto Ciò che volevamo Abbiamo ottenuto Anche un Quakehammer In verità Questa cosa qui Non ci interessa Perché è una cosa Abbastanza inutile Scam Un nuovo Da quel capito È una cosa estetica E ho l'inventario Con disastro Quindi prima di fare Qualsiasi cosa Mi sistemo l'inventario Perfetto Ho sistemato tutto Questo qui penso sia il portale Per effettivamente Uscire Dalla piramide Proviamo subito Esatto Mi riporta qua sopra E nulla E poi poco a poco Posso uscire Ma in verità Nemmeno mi interessa Perché io me ne posso Tornare a casa Tranquillamente Utilizzando La warp stone Ragazzotti Abbiamo finalmente Ottenuto Il soul crystal Nel prossimo episodio Andremo prima di tutto A utilizzare Questo soul crystal E come seconda cosa Ad aggiornare Il mod Perché quindi Tenetevi pronti Perché ci saranno Veramente delle cose Bellissime Detto questo Io spero che questo video Legzissimo E sofferto Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti